Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina e le Fiamme Gialle della Compagnia di Milazzo hanno sequestrato oltre 50.000 articoli in vendita all'interno di un esercizio commerciale gestito da soggetti di nazionalità cinese. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio di Messina per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. I prodotti, abbigliamento, calzature, giocattoli, articoli elettrici e accessori vari per la persona non erano in linea con gli standard di sicurezza e di tracciabilità previsti dalla normativa nazionale ed europea. In particolare la merce sequestrata per un controvalore complessivo stimato in 78.000 euro è risultata priva delle necessarie informazioni previste dalla legge. Mancavano le indicazioni sulla provenienza e composizione del prodotto, sulla presenza di materiali pericolosi, tossici o infiammabili e le istruzioni, le eventuali precazioni e la destinazione d'uso, rivelandosi così potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori. Continua pertanto l'impegno in provincia della Guardia di Finanza peloritana, a tutela della sicurezza dei consumatori e della salvaguardia dell'economia legale e degli interessi degli imprenditori onesti, riportando sui giusti livelli i parametri della libera concorrenza.